dottore giustatutto scusi ma la signora la cazzorla io sto andando a lavorare signora dottore ma io una piccola domanda le devo fare buongiorno si avrà mi dica cosa cosa è successo dottore vuoi sapere e può fare qualche cosa per farmi più bella buongiorno buongiorno per far più bella sinceramente ci sono delle cose che si possono fare e delle cose che non si possono fare che così può fare che così può fare per esempio così può fare possiamo aggiustare il nasino e possiamo togliere le borse sotto agli occhi e questo oggi può fare i miracoli signor ma fatti si veste mi piace ma la vita non piccola c'è tua ospetti si veste o che c'è la faccia non c'è tronso per me